Un messaggio forte di speranza e di fede lo ha regalato ai tanti fedeli di Policoro Crisan Brecalo, una delle guide ufficiali della parrocchia di Međugorje, la cittadina della Bosnia-Herzegovina dove da oltre 30 anni si verificherebbero apparizioni della Madonna. Brecalo è traduttore e componente del gruppo di preghiera della Regina della Pace, guidato da Ivan, uno dei sei veggenti che vedrebbe tutti i giorni la Vergine Maria. L'evento di Policoro, organizzato dal responsabile del Centro Giovanile Padre Minozzi, Don Michele Celiberti, è stata occasione per vivere un intenso momento spirituale e per una riflessione sull'importanza dei gruppi di preghiera nell'incontro con il messaggio cristiano, attraverso una sentita e partecipata crescita spirituale. Il messaggio della speranza, il messaggio dell'allegria, il messaggio della gioia perché noi stiamo aspettando Gesù. Gesù nascerà, ho visto un pochino che è gente preoccupata forse per la situazione politica, per la situazione economica o per altri aspetti e ci dimentichiamo che abbiamo soluzione tra le mani, Gesù. Gesù è il nostro Salvatore, anzi è il nostro Dio, il nostro fratello e viene in nostro soccorso. E lui si è buttato in questo mondo per salvare ciascuno di noi come un piccolo bambino. Vedrete, molti mi chiedono, ma come mai Gesù è morto sulla croce, ha fatto quello, altro, che volto di Dio è questo? Io gli faccio una contraddomanda, gli dico, se una mamma, vera mamma, vede un bambino in pericolo che è caduto in un fiume violento, la mamma non pensa, si butta a salvarlo da questo fiume violento e si anche perde la vita. E così Dio si è buttato, nascendo in questo nostro mondo dove c'è rancore, dove c'è odio, dove ci sono le guerre, per portare questo messaggio bellissimo della pace, che ciascuno di noi può avere questa pace, pace di nasciturno, cioè pace divina, che un fratello che mi sta accanto è fratello, non è un avversario, non è un nemico, è un fratello che anche lui merita di essere abbracciato, coccolato e amato. Ecco questo messaggio che io ho voluto portare da Medjugorje a qui, fratelli fedeli in questa cittadina Policoro. Noi dobbiamo rispondere con la verità, la verità è questa, che adesso noi abbiamo a Medjugorje visitatore apostolico in tempo indeterminato, abbiamo anche decisione del Papa che ha deliberato pellegrinaggi ufficiali, così tutte le conferenze episcopali mondiali hanno ricevuto questa delibera, anche se è espresso per esempio il Presidente della conferenza episcopale ex Jugoslava, croata, che lui dice che questo è caduto, quello di vieto che erano vescovi jugoslavi che si potevano organizzare soltanto pellegrinaggi privati, adesso si possono organizzare pellegrinaggi ufficiali. Dove si va ufficialmente alla Chiesa lì c'è Spirito di Dio, lì agisce Dio, è un luogo della grazia. Stesso Papa, nonostante alcuni dicono, questo Papa attuale fa le critiche, ma lui in un punto dice che Medjugorje è il luogo della grazia, dove la gente va lì, si converte e cambia la vita, allora noi dobbiamo capire questo, perché la gente a Medjugorje cambia la vita, ma la cambia perché lì c'è, è stata, è passata e c'è ancora Madre di Dio che sa riprendere i Suoi figli e riportarli nuovamente a Gesù. Veramente saluto tutti di Policoro, anche fedeli, anche laici con cuore, li saluto con saluto con cui saluta la nostra mamma, tutti noi, cioè Sielo Dato Gesù. Ecco, desideri che questo saluto rientra nuovamente nelle nostre comunicazioni quotidiane, oltre che sono belli saluti, buongiorno, eccetera, che questo saluto, Sielo Dato Gesù, non verrà archiviato e dimenticato.